C'è chi pareggia in Europa League contro squadre che non dovrebbe neanche minimamente vedere perché se messe a confronto De Valore Rosa so due squadre proprio agli antipodi mi verrebbe da dire e chi invece nella stessa competizione al novantesimo sta pareggiando contro una squadra che solitamente non è neanche di questa dimensione europea ma che addirittura è di dimensione superiore addirittura è una squadra che praticamente fa sempre la UEFA Champions League una squadra che solitamente nel suo campionato nazionale di competenza se la comanda o comunque tra le prime due tre della classe è così che voglio esordire nel parlare del Porto e ovviamente della Lazio di Lazio Porto siamo quasi al novantesimo parlerò vi dirò tutto quello che è successo all'interno di questa partita ribadisco voglio essere particolarmente provocatorio e fare dei paralleli tra Roma e Lazio perché mi sono rotto i coglioni e reagirò a tutto quello che potrebbe accadere in live non lo so quello che potrebbe succede abbiamo visto il Porto che ha reagito e potrebbe passare in vantaggio così come la Lazio continua a rispondere i colpi e ad attaccare attenzione perché Pedro ci sta provando scarica per i Saxen che la spara alta ed è calcio d'angolo o potrebbe terminare sul punteggio di 1 a 1 ma per la Lazio sarebbe comunque un risultato importante alla luce delle prime partite giocate finora non ne hanno persa una manco per sbaglio ne hanno vinte tre hanno vinto tutte e tre le partite e questa è la quarta a differenza nostra che sapete tutti quello che abbiamo combinato nelle prime partite e ci abbiamo messo il carico da 90 continuiamo ragazzi a fare passaggi a vuoto bentornati e ben ritrovati vi chiedo di lasciare like per sostenere questo genere di contenuti non vi costa assolutamente nulla preparatevi perché ne usciranno tanti altri domani live reaction day after sulla Roma e via dicendo su gaboman calcio extra è uscito il pagellone sfogo già con fabio di union san gillois roma quindi se volete potete andarlo a recuperare seguiteci quindi su tutti i canali per non perdervi nulla tasto iscriviti campanella tutte le notifiche e restate sempre aggiornati ci abbiamo pure in canale extra calcio se siete interessati in descrizione o come sempre compariranno qui durante il video attenzione perché la lazio continua a spingere e prima di parlare in realtà di un'analisi che poi è la conseguenza di quello che sto per dire io voglio parlare delle scelte che vengono fatte da baroni perché se noi ci permettiamo il lusso tra virgolette di fare turnover contro l'union san gillois ed è molto più giustificata come situazione la lazio si permette in parte di fare un bel po di turnover secondo me in casa contro il porto questa è la differenza e lo sapete per quale motivo la lazio si permette di fare turnover in casa col porto mette mandas lascia in panchina uno come rovella che ad oggi è uno imprescindibile fa giocare gigot che ad oggi secondo me ragazzi non è della stessa dimensione dei dei titolari seppur poi in un modo o nell'altro se difende lo sapete per quale motivo perché c'è questa perché c'è la testa perché c'è la tranquillità perché c'è la voglia di fare perché tutti remano dalla stessa parte perché c'è l'intelligenza di capire che anche se passi in svantaggio anche se la partita te la pareggiano non finisce il mondo la partita dura 90 minuti te pareggiano al cinquantesimo al sessantesimo al settantesimo questi danno l'anima fino all'ultimo noi l'anima degli mortacci nostri non ce la mettiamo mai o a leggeri tratti della partita e questa è anche un'altra analisi che va fatta perché parte tutto dal principio dalle scelte che vengono fatte dall'allenatore che fa sentire il gruppo importante non solo gli undici che scendono in campo titolari attenzione perché la lazio sta continuando a spingere mi sembra in maniera anche abbastanza più corposa c'era stato un tratto della partita in cui il porto sembrava stesse prendendo il sopravvento dopo il pareggio e invece stanno ricominciando ragazzi a spingere e ad attaccare questa è la differenza che intercore e non perché alla lazio sono stati comprati i giocatori più forti che costano di più ragazzi ma perché le cose si fanno col criterio perché la rosa viene costruita ragazzi capendo effettivamente quali sono i tasselli che mancano e che devono essere inseriti all'interno del contesto l'avete vista stasera la prestazione in uno da vares io vi dico solo che lo sapevo già ma non ricordavo una cosa quindi poi sono andato a rileggerla sapevo che in uno da vares è stato pagato dalla lazio 5 milioni di euro e io tra me e meno mi sono detto ma quanto l'abbiamo pagato noi st'estate abdulhamid giusto per capire un giocatore che non gioca praticamente mai perché abbiamo quel fenomeno deselic che le deve giocare tutte poi dobbiamo tornare nel discorso che abdulhamid non gioca perché non è all'altezza della situazione abbiamo pagato 3 milioni di euro abdulhamid ragazzi la lazio ma vabbè uno da vares gioca a sinistra abdulhamid gioca a destra ma per farvi capire dove manca il tassello come te lo sostituiscono senza spende cifre insormontabili la competenza non ha trovato un giocatore che con 5 milioni di euro ad oggi penso che ne vale 30 40 e ti sta attenzione se lo meritano ragazzi questo ha fatto 3 gol in 4 partite 3 gol in 4 partite d'europa league ragazzi ha segnato pedro ragazzi ha segnato pedro ragazzi questa è la differenza ragazzi questa è la differenza questo significa giocare a pallone ma ribadiscono stanno a fare niente di speciale fanno le cose semplici hanno battuto il porto è finita la partita ragazzi manca un minuto di recupero questo è uno scarto nostro questo è un giocatore che nella nostra realtà non si reggeva in piedi non faceva un cazzo e sapete per quale motivo perché la colpa è anche nostra non parlo solo di difoseria parlo anche di chi non gli dà fiducia di chi piglia e dice no tu non sei all'altezza della situazione la lazio è capace st'inverno tanto hummels penso che sia arrivato veramente al limite di sopportazione questo se ci vuole fa un dispetto se svincola se ne va alla lazio comincia a far fenomeno sono sono convinto di quello che vi dico che cazzo di collega ha fatto questo che pedro è un calciatore che ha 37 forse ne ha fatti pure 38 dei anni per 90 minuti di correre 10 volte di più 10 volte di più di tutta la squadra s roma ha corso più pedro in 10 minuti che stasera tutta la s roma ragazzi e se poi arrivano sti risultati è giusto che sia così è meritata una cosa del genere il porto perché ha visto la partita sa che è stato all'altezza della lazio non è un porto che inseregge in piedi andate a guardare la classifica del campionato portoghese ragazzi il porto forse è secondo in classifica forse è primo mombe sfugge ma comunque sta là cioè è una delle squadre più forti continua ad essere una delle squadre più forti del campionato portoghese per quanto poi qualcuno dirà ma l'hai visto il percorso in europa league sì non è che stiano facendo tutto sto granché ma è pur sempre il porto è pur sempre una squadra ragazzi che negli anni passati in champions league ha rotto il culo e ha dato fastidio veramente a chiunque dice ma qualcosa è cambiato con sei sao con sei sao padre una cosa in altra è il porto e se la lazio sta partita da indirezza se la lazio sta partita poi su calcio d'angolo de pedromo che mi ricordo bene spizzata de casteggiano se arriva il gol del vantaggio della lazio de romagnoli mo che ci sto a pensare ragazzi cioè è questa la dimensione in cui dobbiamo leggere le partite in cui dobbiamo effettivamente leggere e ammettere quando una squadra ragazzi sta facendo veramente un ottimo un ottimo lavoro spendendo veramente due soldi due spicci questi sono primi in classifica secondo me sono unici a punteggio pieno ragazzi la lazio è l'unica squadra in tutta la competizione sono 36 squadre è l'unica ad aver vinto quattro partite su quattro undici gol fatti in quattro partite tre gol a partita praticamente due soli gol subiti la lazio ha vinto anche questa io non c'ho più parole ragazzi la gente sugli spalti se la ride ma ribadisco raga è meritato quello che state facendo state facendo noi siamo giusto per leggere la nostra dimensione di classifica noi siamo ventesimi ragazzi noi siamo ventesimi a cinque punti la lazio cena 12 qua non è ognuno il girone suo il girone è lo stesso per tutte le squadre la lazio ci ha dato la bellezza dei sette punti di distacco in quattro partite e se questa non è una squadra che può vincere questa europa league ad oggi quale dovrebbe essere una squadra attrezzata per vincerla stanno dimostrando di essere i migliori di questa competizione non tra le migliori i migliori perché nessuno è a 12 punti e io impallidisco raga io da tifoso della roma vedo la differenza ad oggi tra le due squadre impallidisco perché è una differenza che non dovrebbe stare in cielo né in terra invece ad oggi secondo me è abissale dal punto di vista non solo mentale ma anche di come giocano di come propongono calcio di delle certezze della fluidità del gioco della cattiveria agonistica della rabbia di quello che mettono in campo la roma mette dice no ho sentito le dichiarazioni dei mancini stasera a roma dal 100 per cento stiamo dando tutto e se voi state dando tutto la lazio che cazzo sta dando sta dando il 700 per cento il mille per cento ci stanno a mettere 500 volte quello che ci state a mettere voi allora è assurdo raga veramente io ribadisco il concetto complimenti complimenti perché il percorso è veramente è veramente netto e non c'è nient'altro da aggiungere se non ribadisco per l'ultima volta al concetto nuno tavares ad oggi è forse il terzino sinistro più forte della serie non parlo di esterni di centrocampo è parlo di terzino sinistro è il terzino sinistro più forte per distacco della della serie a e basta non c'è nient'altro da aggiungere non c'è niente